Scenderanno in strada nuovamente per rivendicare il loro diritto di pedalare il lungo corso Garibaldi a Benevento. Gli appassionati delle bici non si arrendono e si danno appuntamento per la prossima domenica 15 gennaio per rilanciare una nuova fase della battaglia contro l'inquinamento e per la libertà ad usare la bicicletta come mezzo di trasporto. Siamo costretti appunto a ritornare in strada visto che non siamo riusciti più a incontrare l'amministrazione ci eravamo lasciati con appunto il nostro impegno a redare un piano di ciclabilità, un piano diciamo di mobilità sostenibile. Benevento necessita di un piano di mobilità sostenibile anche alla luce del fatto che a quanto pare non si sa nemmeno il futuro del trasporto pubblico urbano cittadino. Ragioni che prendono ancora maggior forza se si considera l'aumento dei valori di inquinamento in città e l'innalzamento del PM10. Rivendichiamo la bicicletta come mezzo di trasporto non inquinante per cui pensiamo che una nuova politica di incentivo all'uso della bici possa essere determinante. Inoltre il gruppo insiste sulla necessità di limitare l'accesso di automobili lungo il Corso Garibaldi. Ogni giorno è possibile vedere come il Corso Garibaldi sia un'arteria stradale trafficata, molto trafficata. Si fanno anche addirittura le code di automobili davanti alla prefettura, c'è un parcheggio. Insomma è paradossale che ci sia questo lassismo nei confronti dei veicoli a motore e invece ci sia questa intolleranza nei confronti dei mezzi non inquinanti.